Questo momento storico è molto delicato e particolare. Gram ci diceva che l'indifferenza è il peso morto per la storia, ma è come in questo momento dobbiamo essere dei cittadini attivi. Non possiamo più accontentarci del meno peggio, dobbiamo pretendere il meglio, anzi proporlo. E per proporre il meglio bisogna iniziare alla politica non come un modo per poter far carriera facilitata, ma come uno strumento per poter cambiare dal basso ciò che non funziona o che zoppica. La politica infatti secondo me non è sedersi a tavola e dividersi i ruoli, ma è sedersi a tavola ma pensare che tutti siamo responsabili di tutto. Per farlo ci vuole passione, tenacia e soprattutto ci vogliono le competenze. La passione e la tenacia sono il motore della mia vita. Da anni sono impegnata in azione cattolica, dove ho potuto constatare e apprezzare la bellezza del confrontarsi con l'altro e relazionarsi con l'altro e soprattutto l'importanza del servizio. Ciò che non ho e che vorrei acquisire con la mia partecipazione alla scuola di politica sono le competenze. Grazie.